Forza Motorsport 7 sarà disponibile dal prossimo mese di ottobre su PC Windows 10 e la famiglia Xbox, composta da Xbox One S e la neo-annunciata Xbox One X. Proprio su quest'ultima piattaforma, i risultati del grandioso lavoro portato avanti dal team Turn 10 saranno evidenti, grazie alla magnificenza della risoluzione nativa 4K e dei 60 frame per secondo. Il lavoro svolto su particellari, effettistica e texture confessano un lavoro di perfezionamento incredibile ed inarrivabile per questa generazione di console. Confermate le condizioni meteo variabili e dinamiche anche durante le gare e una maggiore personalizzazione del proprio pilota. Con un pacchetto che comprenderà a lancio 700 vetture, tra cui Porsche, Lamborghini e Ferrari, e 30 differenti scenari e diverse modalità di gioco, Forza Motorsport 7 si preannuncia come il capitolo più ricco nella storia del franchise. Estremo realismo nella guida, basato su un modello fisico comunque altamente scalabile e capace di adattarsi a diverse tipologie di giocatori, sistema di danni perfezionato e un'intelligenza artificiale che ha fatto scuola, Forza Motorsport 7 non potrà mancare nelle collezioni degli appassionati di racing game.